Circo a Pesaro comune con le mani legate per impedirlo elezioni parlaucchielli la partita è tutta da giocare incidenti stradali a Fano due feriti trasportati in ospedale fiera di san nicola attesi tre giorni con record di ambulanti per la prima volta a Fano ospiterà le semifinali nazionali di Miss Italia martedì 6 settembre buona giornata ben ritrovati al nostro telegiornale in questa prima edizione replica poi alle 20 e 40 oggi apriamo questa edizione occupandoci dell'arrivo del circo Orfei a Pesaro un argomento che la scorsa settimana ha sollevato indignazione di tanti nostri telespettatori contrari come del resto la nostra emittente allo sfruttamento degli animali che caratterizza proprio questo genere di spettacoli come anticipato nei giorni scorsi abbiamo quindi interpellato il comune di Pesaro per capire regolamenti e margini di manovra per consentire questo tipo di intrattenimenti venerdì 9 settembre arriverà a Pesaro il grande circo Rolando Orfei che si tratterrà in zona torraccia fino al 25 settembre una notizia che ben prima del posizionamento di tendoni già dalla scorsa settimana aveva sollevato l'indignazione delle tante segnalazioni di disappunto giunte alla redazione di Rossini TV indignazione per una forma di spettacolo circense che prevede lo sfruttamento di animali a fini ludici e ricreativi sulla quale abbiamo interpellato il comune di Pesaro per comprendere regolamenti e margini di manovra dell'amministrazione per consentire o dissentire dal concedere suolo pubblico a questi spettacoli come giunta ci siamo espressi tutti quanti non favorevoli all'attendamento di questo circo sul territorio pesarese purtroppo a livello legale e legislativo non abbiamo strumenti che ci possano impedire di concedere a loro l'autorizzazione all'attendamento questo significa che siamo di nuovo in una di quelle situazioni di impasse nazionali in cui si richiede ai comuni di rilasciare dei titoli autorizzativi ma poi non gli si lascia in realtà la scelta di poter decidere se a consentire oppure no a quelle che sono le richieste detto tutto questo abbiamo cercato però di garantire il più possibile la salute degli animali cercando di imporre dei regolamenti abbastanza stringenti per il loro benessere sicuramente vigileremo al massimo perché questi animali siano trattati nel migliore modo possibile quindi senz'altro faremo svariati controlli purtroppo ripeto noi crediamo che lo sfruttamento degli animali per delle dei fini ludici e così effimeri non sia non sia rispettoso nei confronti dell'animale e quindi abbiamo cercato di aprire un dialogo con il proprietario del circo e sicuramente l'attività cercenze è un'attività antica che ha una grande storia una grande tradizione ma è bene che anche questa grande tradizione si evolva con il passare degli anni e cerchi di sfruttare al meglio e di valorizzare al meglio quelle che sono le grandi professionalità che all'interno del circo si possono trovare che non includano per forza l'uso degli animali per fare degli spettacoli quindi abbiamo un grande rispetto per l'attività del circo ma senza l'utilizzo degli animali il comune ha anche instaurato una mediazione con la stessa proprietà e gestione del circo abbiamo chiesto che tutti gli animali fossero esclusi dagli spettacoli e all'interno di una diciamo contrattazione che purtroppo deve avvenire in questi casi abbiamo ottenuto che gli animali esotici come ad esempio le tigri siano escluse dallo spettacolo chiaro che questo non è un risultato che ci soddisfa però comunque è un passo avanti ricordo tutti quanti che queste attività itineranti all'interno del territorio italiano ancora attirano tanti spettatori attirano tante famiglie quindi forse è anche il caso che il pubblico pagante cominci un pochino a rendersi conto che questo tipo di divertimento forse non è più un divertimento attuale ed è meglio che vengano proposte attività diverse ai propri figli per far conoscere quelli che sono gli animali e la loro natura Insomma il circo si farà ma se sarà l'ultimo che si vedrà a Pesaro non sembra dipendere dal comune Ricordo comunque che l'indirizzo che sta dando il governo è l'indirizzo di andare verso piano piano una dismissione di quelli che sono gli spettacoli animati con gli animali sono state fatte delle leggi per le quali però mancano dei decreti attuativi quindi speriamo che il prossimo governo prenda anche questo in considerazione tra tutti i problemi che ha dettagli in questo momento detto questo però ricordiamoci che gli animali che in questo momento sono già di proprietà dei circhi devono rimanere dei circhi per tutto il resto della loro vita quindi rimarranno comunque al seguito delle carovane perché avranno bisogno e necessità di essere comunque mantenuti da accuditi quindi sarà un processo un po' lento che richiederà degli anni e quindi ancora per un po' saremo costretti a vedere questi animali al seguito dei circhi ed ora cambiamo argomento perché area vasta 1 e comune di pesaro sono al lavoro per far sì che l'auditorium di marche multiservizi di via toscana diventi il nuovo centro vaccinale anti covid della città di pesaro luogo che era già stato individuato un mese fa che doveva essere attivato in questo mese di settembre ma che negli ultimi giorni ha avuto una frenata per un blocco burocratico legato al cambio di destinazione urbanistica il comune è al lavoro per stilare una deroga che consenta l'uso temporaneo della struttura come hub vaccinale un hub che a pesaro manca dalla chiusura dell'ex ristò nello scorso mese di giugno mancano meno di 20 giorni alle elezioni sulle quali si stanno accavallando previsioni e sondaggi molti dei quali sfavorevoli al partito democratico un tema che abbiamo analizzato col sindaco di valle foglia palmi rucchielli che è fra i più litici più longevi del territorio e che meglio conosce le dinamiche della chiamata alle urne il 25 settembre si torna appunto al voto pesaro urbino una provincia in cui non c'è un vero candidato del pd per le uni nominali lei come l'ha vista questa decisione come l'ha presa ma il vero candidato si vede dopo perché intanto noi avevamo nelle marche tre parlamentari e presumo che tre li riavremo forse quattro quindi tutto da vedere perché avevamo un parlamentare in questa provincia un parlamentare nella provincia di fermo un parlamentare alla provincia di macerata dubito che noi non rialeggiamo tre parlamentari marchigiani e quindi penso che non sussista questo problema le partite non si vincono mai a tavolino i collegi sono tutti contendibili io sono stato in un collegio a fano nel primo governo berlusconi come deputato era il collegio peggiore ed ho vinto quindi il pd aveva poco più del 25 26 per cento qui il centrodestra aveva il 50 per cento io stato eletto col 59 70 quindi voglio dire conta molto anche le persone conta il rapporto con la gente contano i partiti e contano anche le coalizioni si tratta di vedere come vanno le cose in questa legge elettorale è un mix tra il listino che qui se dipende dai voti che prende il partito perché si vota solo il partito non ci sono le preferenze non c'è nulla ci sono alcuni collegi nominali in teoria è chiaro che chi ha una coalizione più unita ha più chance però non è detto dipende dal candidato o dalla candidata e dipende i rapporti che ha avuto nel territorio se era già parlamentare se non è conosciuto si tratta di vedere come farlo conoscere e poi bisogna vedere i supporter il mondo delle imprese gli operai che dicono votano tutti a destra io non ci credo che un operai vota a destra perché un operaio che vota a destra vuol dire che ho la sinistra il centro sinistro non è stato in grado di dargli risposte oppure talmente sfiduciato e disperato che prova anche con la destra quindi è tutto da vedere io sono lavorato tanti anni in fabbrica e non mi ho mai passato nemmeno per l'anticamere il cervello di votare a destra perché la sinistra per quanto ha avuto i problemi ha sempre dato maggiori risposte non ho avuto una risposta ancora positiva da tutta la giunta regionale tutti gli assessori regionali troppe chiacchiere e pochi fatti sulla sanità sul lavoro su tutte le questioni parole 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 parlare facile far le cose è più difficile e quindi e quindi è una partita tutta aperta bisogna giocarla giocarla bene io le partite le gioco sempre per vincere ed ora ci spostiamo a fanno perché due incidenti stradali sono avvenuti questa mattina alle 8 e 30 in via veneto un 84 anni al volante di una renault capture ha investito una ventenne di coglie al metauro sulle strisce pedonali la giovane ha riportato ferite che l'hanno costretta al pronto soccorso dell'ospedale santa croce ospedale dove appena un'ora dopo è pure arrivato un settantenne ferito con un trauma alla testa l'anziano in sella la sua bicicletta è stato investito in via del fiume da un 38enne alla guida di una mercedes uscito dal parcheggio di un condominio altri due furti sono stati sventati nella notte a fanno e a pesaro grazie alla sinergia tra forze dell'ordine e gli operatori di vigilanza vigilar il primo intervento è avvenuto attorno alle 3 di questa notte in un bar di una stazione di servizio a fanno dove in seguito all'entrata in funzione dell'allarme gli operatori vigilar in servizio presso la sala operativa hanno attivato le telecamere a circuito chiuso individuando due persone incappucciate che stavano tentando di forzare la porta del bar sul posto è stato richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri arrivati insieme ad una pattuglia vigilar nulla è stato portato via dal locale copione simile anche per il tentativo di furto andato in scena mezz'ora dopo in una gastronomia di pesaro anche in questo caso una pattuglia della vigilar è a corsa presso il locale sventando ogni genere di illecito e proprio con alessandro giuliani di vigilar la scorsa settimana ci siamo occupati dell'andamento dei furti sul territorio in questa estate nella prossima intervista infatti lo stesso giuliani ci fotografa anche il sensibile incremento della richiesta di investigazioni private vediamo servizio di investigazione quello che fa anche contro le service 25 anni quali sono le attività svolte in questi ultimi 365 giorni da voi ma direi che in quest'ultimo anno abbiamo incrementato notevolmente soprattutto in due ambiti importanti quello della del controllo sui dipendenti per le aziende e quindi controllo malattia infedeltà aziendali furti e sottrazioni dove abbiamo diverse squadre impegnate in questo settore mentre nel periodo estivo aumenta notevolmente l'infedeltà coniugale dove non vorremmo essere visti come gli spioni ma un'agenzia investigativa che quest'anno compie 25 anni di attività fatta di professionisti che svolgono con attenzione il loro ruolo e molto spesso risolvono delle questioni molto delicate e riescono a far portare il proprio vantaggio al nostro cliente quindi anche in situazioni difficili dove ci sono affidamenti di minori piuttosto che altre situazioni sempre molto delicate perché stiamo trattando temi nella sfera personale è un lavoro questo che aumenta o diminuisce nel corso degli anni ma c'è stato un blocco durante il lockdown ovviamente per quanto riguarda il controllo sui dipendenti perché con lo smart working ovviamente si rimaneva a casa per cui aveva poco senso quest'anno c'è stato un incremento perché sono quasi rientrati tutti in presenza e anche nelle infedeltà nelle indagini private c'è stato un incremento perché c'è questa questo senso di voglia di evadere di liberarsi dal quindi si esce di più si frequentano locali si frequentano persone quindi sono anche possibilità di conoscenze nuove quindi ovviamente l'infedeltà aumenta e abbiamo visto che quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo fatto più 30 per cento in più di indagini lavoriamo con grosse aziende a livello nazionale abbiamo circa una quindicina di aziende nazionali parliamo di ferrovie dello stato poste italiane eni poi alcune diciamo di realtà un po più locali tra emilia romagna marche abruzzo dove hanno dove siamo il loro punto di riferimento per le indagini investigative nel settore gius lavoristico quindi nel controllo dei dipendenti per poter dimostrare che effettivamente non usufruisce dei permessi legge 104 per accudire il parente piuttosto che vanno al mare o fanno le loro attività ludiche per quanto invece riguarda le coppie quante sono quante vi hanno contattato facciamo circa 180 200 indagini all'anno una un'indagine media dura un paio di settimane e per il 95 per cento dei casi quando un cliente viene da noi uomo o donna aveva ragione di sospettare qualcosa perché poi effettivamente verifichiamo quello che aveva nei suoi sospetti è ovvio che la tecnologia ci aiuta molto i gps le telecamere le micro telecamere sono strumenti che i nostri uomini utilizzano molto molto bene sono più gli uomini o le donne che vi contattano diciamo che sono più le donne che ci contattano un 60 40 anche un 70 30 sono più le donne che decidono di verificare se il proprio partner è fedele oppure no cambio tutto al femminile al comando della guardia costiera di pesaro a giorni saluterà infatti la comandante barbara magro e si insedierà claudia di lucca ereditando diverse criticità in sospeso del porto di pesaro vediamo il servizio settimana di cambiamenti al verdice della guardia costiera di pesaro venerdì prossimo la capitaneria di porto cambierà comandante col passaggio di consegne tutto al femminile da barbara magro che saluta in direzione roma a claudia di lucca reduce da esperienza salerno che si insedierà ufficialmente al comando al porto di pesaro è stata un'esperienza meravigliosa da un punto di vista professionale umano ho trovato una città una città accogliente non non ero mai stata nelle marche se non se non in vacanza da un punto di vista istituzionale ho trovato una piena collaborazione e quindi il nostro lavoro è sicuramente più facile quando quando c'è dialogo tra tra le istituzioni per claudia di lucca parte un lavoro chiamato a trattare importanti criticità del porto pesarese rimaste in sospeso da anni dai problemi della darsena ai lavori per la cassa di colmata e dragaggio alla patata bollente delle edificazioni sull'ex consorzio agrario il comune di valle foglia ha autorizzato il gruppo speleologico di urbino di condurre un'indagine approfondita su grotte naturali ed artificiali presenti nel territorio un gruppo scientifico coordinato da michele betti presidente del gruppo speleologico di urbino e coordinatore nazionale della società speleologica italiana rileverà gratuitamente le cavità naturali artificiali che insistono nel territorio del comune questo perché nei borghi storici di sant'angelo illizzola col bordolo e monte fabbri ci sono numerose grotte per lo più inesplorate e inutilizzate da decenni costruite in passato per ragioni di sicurezza e di difesa personale valle foglia vuole dunque così riscoprire valorizzare questo patrimonio territoriale poco conosciuto dopo due anni di assenza a causa della pandemia miss italia ripropone in presenza la sfida delle pre finali nazionali un appuntamento che dopo 17 anni torna nelle marche precisamente a fano dove il concorso arriva per la prima volta ospitando 197 ragazze vincitrici dei titoli regionali che sono stati assegnati nel corso di 350 selezioni l'appuntamento è stato presentato questa mattina davanti all'arco d'augusto alla presenza della patron della manifestazione patrizia mirigliani e di miss italia 2021 zeudi di palma le pre finali si terranno a fano dal 16 al 18 settembre periodo in cui la commissione tecnica presieduta da maria giovanna maglie selezionerà 20 finaliste una per regione e fano si prepara anche ad uno degli eventi più sentiti della città il brodetto fest una rassegna che quest'anno giunge al traguardo della ventesima edizione e che dopo la presentazione a fano che vi abbiamo mostrato la scorsa settimana oggi è stato pure illustrato a roma presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una presentazione che conferma la centralità di questo appuntamento nel panorama dell'enno gastronomia nazionale presenti a roma il sottosegretario alle politiche agricole stefano battistoni oltre al sindaco di fano massimo seri e al presidente provinciale di confesercenti pier stefano fiorelli ed ora da fano ci spostiamo a pesaro perché il 10 l'11 il 12 settembre torna la fiera di san nicola e torna con una cifra record di ambulanti presenti ben 550 finalmente la fiera di san nicola che è una realtà costante nel tempo rappresenta la storia torna senza limitazioni grande partecipazione perché 550 espositori saranno presenti dal 10 al 12 di settembre quindi tre giorni di fiera molto importanti dedicati al commercio all'artigianato alla produzione locale accompagneranno i cittadini tutti coloro che verranno nella nostra città a vivere questo momento finalmente sono sparite le limitazioni delle distanze degli ingressi ovviamente la mascherina rimane consigliata ma non dovuta ma ritorneranno anche gli eventi dedicati ai più piccoli tutti i pomeriggi la domenica mattina e anche il prefiera in piazza della repubblica venerdì precedente quindi il giorno precedente da anni ormai da più di dieci anni erano fermi e quindi c'è stato un lievissimo aggiornamento ma i costi oggi sappiamo dell'energia e non solo dell'energia sono tutti aumentati nonostante questo per dieci anni non si è manco aumentata l'inflazione e quest'anno un piccolo ritocco ma dei posti che erano liberi su 87 posti 100 più di 130 sono state le domande ecco perché una fiera il completo con 550 espositori credo che questo sia davvero un grande rito alla normalità ma anche una grande soddisfazione per la città di pesaro la novità di quest'anno è la l'introduzione del dell'area spettacolo per i bambini con il coordinamento di pesaro village che allestirà appunto un un'area di intrattenimento sui giardini di piazzale la libertà tutti i pomeriggi 16 30 19 30 e anche domenica mattina e la conferma dell'area del mercatino di bambini sempre nei giardini di piazzale libertà che sicuramente meglio coniuga l'esigenza dei bambini quindi del gioco con la fiera di san nicola anche come spazio come tipologia e la possibilità di usufruire del parcheggio di villa marina che un'area sosta da 160 posti attrezzata grazie al comune di pesaro proprio ai margini della fiera che sicuramente aiuterà anche in termini di viabilità per la fiera sono attesi oltre 500 partecipanti 550 scusate suddivisi chiaramente le varie tipologie va da sé che il settore principale quello dell'ambulantato e poi avremo prodotti tipici alimentazione e no gastronomia quindi specialità locali mercatino artigianato insomma un'offerta variegata che sarà sicuramente in grado di soddisfare tutte le esigenze la sicurezza assolutamente rimane un punto fondamentale un ringraziamento particolare alla polizia municipale alla alle forze dell'ordine che ci accompagneranno come sempre perché la sicurezza è sempre primo posto siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera però in prima serata alle ore 21 e 20 c'è il racconto di quella che è stata la mezzanotte bianca dei bambini la dodicesima edizione che è avvenuta nel centro di pesaro proprio questo scorso fine settimana quindi vi aspettiamo alle 21 e 20 mentre con l'informazione invece ci ritroviamo domani mattina in diretta alle 7 e 20 sul canale 80 chiaramente oppure se avete voglia di vederci o comodità di vederci attraverso il web potete farlo attraverso la nostra diretta nella pagina facebook oppure nel nostro sito rossinetv.it o anche attraverso la nostra applicazione e adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni io vi auguro un buon proseguimento di serata grazie grazie grazie